Se vedete due pugili pronti ad affrontarsi sullo ring ma con una scacchiera a dividerli, no, non state sognando. Si tratta della chessbox. Questa disciplina nasce nel 2003 quando Jeper Ubing, pittore e scacchista olandese, riprende un vecchio fumetto del serbo Enki Bilal che univa gli scacchi con il pugilato. Da qui la disciplina ha preso piede in tutto il mondo ed è stata portata in Italia, per la precisione a Spoleto, per la prima volta da Gianni Burli, presidente onorario della FISP, la federazione italiana scacchi pugilato. I due atleti pugili cominciano con una partita degli scacchi con la scacchiera sul ring per poi continuare la gara con tre minuti di pugilato e così via per 11 volte. Per essere dei buoni chessboxer è determinante che siano ottimi giocatori di scacchi e buoni e buoni pugili. Burli è anche l'allenatore di Sergio Leveque che il 4 febbraio ha vinto a Parigi il titolo di campione del mondo di chessbox contro il francese Jamel Yennus. Nel lontano 2009 nel corso di una manifestazione pugilistica che avevamo organizzato a Spoleto e inserì un'esibizione di scacchi pugilato. Fu interessantissimo vedere i volti del pubblico che era venuto a vedere un incontro di pugilato. Invece a un certo punto si trovarono un tavolo con una scacchiera sul ring e si chiederono, ma ora che facciamo? Il movimento della chessbox insomma continua a crescere nel nostro paese e a ottobre si daranno a Riccione i campionati mondiali della disciplina.